Amici dello Stregone, siamo adesso in compagnia, abbiamo finito quasi la carrellata dei nuovi arrivi, lui non è proprio un nuovissimo arrivo, siamo in compagnia di Gigo Gori, io partirei quasi dalla fine, ti abbiamo visto fare una parata esagerata su quel colpo di testa, sembra in queste partite che stai in porta così giusto per stare, invece poi? Sì, è stato così, un bel colpo di testa, però è tutto partito dal mio errore perché ho chiamato la palla, poi all'improvviso è scomparsa nel sole perché c'era un sole davanti agli occhi impressionante, mi sono difeso bene alla fine. Una bellissima parata, complimenti, con gli altri abbiamo fatto le solite domande, come ti trovi nel gruppo, quali sono le tue caratteristiche, le tue ambizioni, con te possiamo invece parlare di qualcosa che ci dà più emozione, ma quest'anno che campionato sarà? Quanto lo stiamo aspettando, Gigo? Eppure tu, è vero che hai già vinto, non diciamo con chi è? No, 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 assolutamente, ho vinto anche a Benevento, non è quello, sicuramente sarà come tutti gli anni, si spera sempre di fare un grande campionato, ormai è inutile essere qui e ripeterlo sempre, noi lo sappiamo cosa vogliamo, quindi daremo come sempre il 100% per raggiungere questo sogno, però intanto siamo bene con i piedi per terra perché c'è ancora da lavorare. A te faccio una domanda al contrario, perché ai nuovi arrivi ho detto come vi è sembrato il gruppo, come vi trovate, invece a te voglio chiedere chi è il più simpatico di tutti, a me è parso Montiello, poi non lo so se Marchio. Senti, io non voglio essere ripetitivo, però qua è quello che mantina avanti da Baracca e Mancinelli, ci ha fatto passare un grande ritiro, sai a volte nel ritiro ci sono momenti un po' così di stanchezza, però lui sempre c'è la battuta pronta, è sempre lì, ci fa un attimo ricaricare le pile con le sue battute, qui è un grande amico, un grande collega, un grande portiere, quindi gli dico Mancinelli. Perfetto, un saluto agli amici dello stregone.net. Ragazzi, niente, infatti speriamo di raggiungere questo obiettivo prima possibile, la squadra ha bisogno di voi e dateci una mano anche quest'anno, grazie. Ok, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie.